Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare, Tisana Sonno. A cosa serve? Tisana Sonno Pia ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la regolazione del sonno e stress. È commercializzato in Italia dall'azienda Erboristeria Magentina SRL. Informazioni commerciali titolare. Erboristeria Magentina SRL. Concessionario. Erboristeria Magentina SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per la regolazione del sonno e stress. Confezioni. Tisana Sonno Pia 20 filtri da 30 grammi. Indicazioni. Integratore alimentare a base di melissa e biancospino utili per favorire il rilassamento e il benessere mentale. Tiglio indicato per un fisiologico sonno e in caso di stress con lavanda. Modalità d'uso. Infondere una bustina a filtro in una tazza di acqua bollente, circa 150 ml, per circa 5 minuti, una massimo 2 volte al giorno, preferibilmente lontano dei pasti. Prima di togliere la bustina a filtro, premerla leggermente con il cucchiaino. Eventuali lievi variazioni di sapore e colore fanno parte della naturalità del prodotto. Avvertenze. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano. Ingredienti. Melissa. Melissa officinali. Selle. Foglie. Tiglio. Tiglia. Platifilos. Scop. Fiori ebaratte. Arancio. Citrus. Sinensi. Selle. Osbeck. Frutto. Biancospino. Crategus. Oxiacanta. Uct. Sommità fiorite. Lavanda. Lavandula. Angusti. Foglia. Mil. Fiori. Aroma naturale di arancio. Stevia. Stevia. Rebaudiana. Bertoni. Foglie. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.